Il 23 aprile scorso, 115 lettori di Agropoli, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 49 del vigente Statuto Comunale, hanno consegnato agli uffici del Comune una proposta per contrastare il fenomeno dei cosiddetti animali vaganti. Da allora nulla è cambiato perché negli ultimi tempi il fenomeno non è cessato. Animali abbandonati a se stessi, privi apparentemente di proprietari. La cronaca di questi ultimi anni racconta spesso purtroppo di incursioni nelle vie del centro, del quartiere della Madonna del Carmine, nella contrada Marroda, nelle aree di balneazione della Baia di Trentova, nei sentieri di Tresino frequentati dai trekking team e dalle mountain bike e recentemente nel fondo di Trentova di proprietà del Comune di Agropoli, acquistato col danaro dei contribuenti. Questi episodi sono stati ripetutamente documentati da giornali e televisioni locali, oltre che oggetto di reiterate segnalazioni e denunce presentate dai cittadini e dai proprietari dei fondi agricoli che subiscono danneggiamenti continui. I sindaci hanno la competenza all'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Francesco Cavaliere, primo firmatario della proposta, ha dichiarato La raccolta di firme ha riscosso finora 253 adesioni. Il sindaco ha 30 giorni di tempo per rispondere agli elettori. Tempo più che sufficiente perché la legge attribuisce ai sindaci in questi casi la competenza e la responsabilità esclusiva e personale attraverso lo strumento dell'ordinanza sindacale. I cittadini agropolesi subiscono da dieci anni le sopraffazioni dei proprietari degli animali vaganti. Le cosiddette vacche sacre, secondo molti degli autorevoli interventi in trasmissione, sono lo strumento della criminalità per il controllo del territorio e l'imposizione delle loro leggi. Anche ad Agropoli è così. Nel dubbio l'intervento del sindaco è indifferibile. E non si è fatta attendere la risposta alla nota protocollata dall'azienda agricola Francesco Cavaliere. La questione relativa agli animali vaganti, dichiara il primo cittadino Coppola, ci è nota. Siamo in contatto con le forze dell'ordine, in particolare con i carabinieri forestali, per cercare una soluzione tesa ad arginare la problematica. Nel contempo siamo al lavoro per preparare un'ordinanza ad hoc per imporre ai titolari una più idonea custodia degli animali, a salvaguardia degli stessi e dell'incolumità dei cittadini. In caso contrario si potrà prevedere, in accordo con le forze dell'ordine, che gli stessi possano venire sequestrati ed affidati ad associazioni.